Ben trovati ai telespettatori di Cilento Channel e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Cilento Focus, ospite nei nostri studi il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. Benvenuto Sindaco. Benvenuto, grazie. Un saluto naturalmente a tutti gli ascoltatori di Cilento Channel. Con il Sindaco faremo una dinamica chiacchierata su quelle che sono le attività dell'amministrazione comunale di Agropoli, delle nuove inaugurazioni e dei nuovi lavori che poi la città di Agropoli andrà a realizzare con a capo l'amministrazione comunale. Partiamo subito dall'inaugurazione che si è tenuta a località Mattine per quanto riguarda la rotatoria e la posa della prima pietra del plesso scolastico. Ecco, un nuovo volto per questa nuova località. Ma oggi una giornata bella per Agropoli, in particolare bella per la località Mattine, perché portiamo a termine delle opere ormai, un'opera in particolare ormai cominciata molto tempo fa, che è quella della messa in sicurezza di quell'incrocio che è stato qualche volta anche, ahimè, agli altari delle cronache per gravi incidenti. Ora pensiamo di aver risolto credo definitivamente il problema e quindi di questo siamo felici. Io però ho introdotto il mio saluto oggi, lì le località Mattine, dicendo scusa, chiedendo scusa ai cittadini, perché è un intervento che bisognava fare, ma bisognava fare prima. Questo intervento, tra l'altro anche bello da vedere in termini anche visivi, è una cosa che è arrivata dopo quasi sei anni. Quindi un intervento che a causa della burocrazia ci è costato sei anni di ritardo e quindi è doveroso da parte mia chiedere scusa ai cittadini. Ricordo rapidamente quasi quattro anni di richieste all'ANAS per riuscire a ottenere i pareri e non ci siamo riusciti. Poi è passato in mano alla provincia, anche lì un lungo calvario da parte nostra per ottenere l'autorizzazione. Una volta ottenuta l'autorizzazione i cittadini l'hanno visto in pochissimo tempo, meno di due mesi, l'opera è stata realizzata. Quindi quanto è difficile districarsi tra le carte? Questo è un problema che non riguarda soltanto il cittadino, ma riguarda purtroppo anche noi gli amministratori che devono a loro volta raccogliere i pareri per realizzare delle opere e in questo caso ci è costato tanto tempo. Quindi brutta storia, finalmente però alle nostre spalle e siamo orgogliosi di poterla dare ai cittadini. Oggi l'incrocio è in sicurezza, la rotonda rappresenta anche un inizio di un percorso virtuoso per località mattina, perché come dicevi tu non ci siamo fermati soltanto a consegnare un'opera, ma siamo spostati poche decine di metri, abbiamo messo la prima pietra per l'inizio di un'altra opera importante, strategica, una scuola in località mattina. La mattina è un rione in continua crescita, soprattutto da un punto di vista delle nascite e quindi ormai stabilmente c'è una classe sostanzialmente, quindi tre aule di asilo e cinque di scuola primaria, ormai costantemente piena di 25 bambini, quindi c'è una produzione, grazie a Dio, questo ci fa molto piacere, continua in quell'area e necessitava quindi una risposta seria. La risposta l'abbiamo dato oggi, quando si fanno degli investimenti come questi, investimenti in cultura, investimenti sul futuro dei nostri figli, danno grande soddisfazione, oggi devo dire siamo contenti e siamo soddisfatti. Le sorprese per località mattina non finiscono qui, infatti a giugno ci sarà l'inaugurazione si spera del nuovo presidio permanente dei Vigili del Fuoco di Agropoli, lo scorso anno abbiamo avuto un presidio temporaneo, ma da giugno prossimo la città di Agropoli si avverrà di un'altra istituzione importante. Sì, assolutamente sì, siamo felici, noi l'abbiamo annunciato anche questo oggi, credo sarà giugno, poi vi vedremo precisamente la data in cui sarà inaugurata la caserma dei Vigili del Fuoco, ricorderete che sono due anni ormai che riusciamo ad ottenere il presidio estivo, ma fortunatamente anche qui dopo un lungo percorso, un lungo impegno, un lungo lavoro da parte nostra siamo riusciti ad ottenere il presidio permanente. 30 uomini che andranno a coprire questa caserma, 30 uomini che arrivano direttamente nuovi, giovani eleve che arriveranno in provincia di Salerno e arriveranno proprio al comando provinciale di Salerno di là, poi saleranno a dislocare tutta una serie di militari che si troveranno ora a coprire questo servizio importantissimo. Si tratta di un presidio di sicurezza molto importante, naturalmente i Vigili del Fuoco sono il presidio più forte, più importante della sicurezza e quindi non solo si interverranno in caso di incendio, ma a 360 gradi saranno un presidio importante di protezione civile. Questo rende la città di Agropoli più sicura e di questi veramente siamo anche di questo molto orgogliosi, quindi diciamo che il 2020 è cominciato bene e ci auguriamo veramente che prosegue nella stessa direzione. Abbiamo inaugurato la caserma della guerra di finanza qualche giorno fa, annunciamo l'inaugurazione dei Vigili del Fuoco e poi anche altro. Infatti dopo questa notizia dei Vigili del Fuoco, a che punto è invece l'istituzione del commissariato di polizia che tanto si è parlato nei mesi scorsi? Volevo giusto aggiornarti, perdonami, poi riteniamo subito alle altre caserme. Un'altra cosa che abbiamo annunciato, che è un intervento anche se non di grande impatto ma molto utile, andremo a completare la pubblica illuminazione che dall'uscita di Agropoli Sud conduce fino alla rotonda che abbiamo inaugurato oggi a mattina. C'erano alcuni tratti che ancora non sono illuminati, in particolare alcuni tratti proprio in prossimità di Agropoli Nord che rendono la strada non sicura. Quindi l'illuminazione è doverosa, la faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in modo da rendere quella strada più sicura proprio per completare quel percorso di sicurezza che termina poi con la rotonda realizzata in località mattina. Torniamo poi, quindi mi faceva piacere annunciare anche questo perché poi gli annunci sono come una sfida, nel senso che un'opera da fare tu l'annunci e quindi sei tra virgolette costretto poi a rincorrere. Quindi noi lanciamo sempre il cuore oltre l'ostacolo e cerchiamo di lanciare sfida a noi stessi per essere efficienti verso chi ci ha dato fiducia. Ora, sì, la questione del commissariato. Io il giorno dell'inaugurazione della casella della Guardia di Finanza, alla presenza del prefetto, di tantissime autorità civili e militari al massimo livello, ho detto. Noi abbiamo lanciato un'altra sfida quel giorno, abbiamo detto siamo pronti per realizzare anche il presidio della polizia ad Agropoli. Non ci spaventa intervenire e fare una caserma dedicata al commissario di polizia, come non ci spaventa, ci stiamo ragionando seriamente, anche a una casa per i carabinieri. Io credo che questi investimenti, perché si tratta di mutui, quei mutui tante volte criticati e vituperati. Infatti ricordiamo che tra l'altro c'erano stati un po' di pareri non favorevoli per la collocazione del commissariato di polizia, anche questo insomma ci interessa sapere se poi si è trovata la collocazione definitiva. No, noi stavamo dicendo che quei mutui che molto spesso sono stati criticati per le opere pubbliche. Oggi fortunatamente la gente è cominciata finalmente a capire invece che non sono soldi buttati, ma sono investimenti, in questo caso in termini di sicurezza, perché avere un commissario di polizia, avere una caserma dei carabinieri più efficiente e più grande garantirebbe al nostro territorio maggiore sicurezza, perché significa altri uomini presenti sul territorio, perché poi immaginiamo non soltanto la questione che riguarda il commissario, ma anche quello che riguarda la caserma dei carabinieri, significherebbe per dare una casa dei carabinieri che gli consentirebbe di avere più forza, più disponibile in termini di risorse umane, quindi più presenza sul nostro territorio, quindi sono investimenti importanti, noi ci crediamo e vogliamo farli. Per quel che riguarda poi la questione tecnica, logistica, dove realizzare questa caserma? Noi abbiamo sempre detto e abbiamo dimostrato di saperle fare le caserme perché abbiamo ricevuto i complimenti per quella della finanza, noi siamo pronti a realizzarle in qualsiasi posto, concordiamo, abbiamo dato disponibilità di più di un luogo e ho inviato una lettera al prefetto, aspetto una convocazione da parte sua per sederci al tavolo con i tecnici del ministero, davanti al prefetto in modo tale che la riunione sia operativa al 100%, per chiarire gli aspetti di carattere tecnico e stabilire finalmente dove è il posto, dove poter progettare questa caserma. Noi una volta che abbiamo ricevuto l'ok già siamo in una fase avanzata anche di progettazione, quindi non ci vorrà molto per avviare la richiesta di mutuo e andare a finanziarla. Noi pensiamo che nel giro di un anno e mezzo possiamo consegnare il commissariato. Quello che manca ancora è l'ok definitivo da parte del ministero competente, ma noi stiamo anche facendo pressioni per quel che ci compete, per fare in modo che arrivi anche questo ok. Se questo si coniuga a tutti, io credo che entro fine mandato andremo a inaugurare altre due caserme. Ritornando velocemente un attimo alle scuole, per una questione di parità per quanto riguarda l'inaugurazione, quindi la posa della prima pietra in località Mattine e gli istituti invece scolastici di competenza comunale nella città di Agropoli, parlo del centro, ci sono degli interventi anche per la Landolfi, per l'asilo di centro, possiamo annunciare magari se c'è in cantiere anche qualche intervento strutturale? Gli interventi di manutenzione straordinaria e straordinaria delle scuole sono continui, noi in questi ultimi mesi siamo intervenuti con tre cantieri, uno San Maria delle Grazie, quindi dell'asilo di Piazza della Repubblica, Landolfi e Scuola Media, Scuola Vailo, siamo intervenuti con tre cantieri per mettere in adeguamento tutte le nuove e aggiornate norme per quel che riguarda la normativa dei vigili del fuoco, quindi siamo intervenuti con tre cantieri. Altri cantieri verranno aperti in maniera costante per mantenere sempre all'avanguardia la sicurezza dei nostri figli, posso annunciare per esempio che ci sarà un intervento di adeguamento dell'aula, del laboratorio, quello che era un po' l'ex cinema della Scuola Vailo, quello sarà adeguato perché non è più adeguato da un punto di vista di sicurezza, realizzeremo l'ascensore anche nella Scuola Vailo per dare la possibilità anche ai disabili di poter utilizzare in maniera facile la scuola stessa, purtroppo l'ascensore è una cosa che manca ed è richiesta da tempo, quindi gli interventi sono realmente continui. Abbiamo dato disponibilità per quella della Scuola Landolfi della possibilità di attrezzare una mensa, anche la Scuola Landolfi per cominciare un progetto di tempo pieno anche per le scuole primarie, c'è un continuo fermento, un continuo lavoro da parte nostra che molto spesso noi non comuniciamo e quindi sembra siamo poco presenti, dobbiamo venirevi a trovare più spesso per raccontare queste cose. Attraverso questi focus i cittadini sappiano degli interventi che sono previsti anche per le altre strutture scolastiche del territorio agroponese, quindi dalla scuola ai presidi di sicurezza invece ci spostiamo al porto turistico di questi giorni, un suo video sui social che annuncia la risoluzione definitiva dello spiaggiamento della Posidonia Oceanica attraverso un macchinario. Allora ci spieghi nel dettaglio, Sindaco? Ora vi spiegherò questa cosa delle alghe, però poi ci riserviamo di parlare ancora del porto, perché ci sarà un'altra opera che andremo fra poco a iniziare. Abbiamo parlato nel programma 2.0 però diversi mesi fa e quindi di conseguenza va benissimo. Allora su questa cosa insomma ci tengo tantissimo, perché anche qui il fatto che non abbiamo parlato tutti i giorni del problema della Posidonia spiaggiata, come non parliamo tutti i giorni dell'ospedale, non vuol dire che non sono cose che ci stanno a cuore, non vuol dire che non sono problemi che non ci impegnano nel nostro quotidiano, non vuol dire che non lavorando riusciamo a trovare soluzioni. Questa idea, progetto che ho accennato rapidamente con questo video dalla Spiagione della Marina, racconta la concreta possibilità di riaffondare a mare la Posidonia. Quello che da mare è arrivato, a mare intendiamo riportare. Questa è sostanzialmente la logica. Non è stato possibile perché le mareggiate, sapete, non entrano nel porto, come non entrano e non arrivano lì da azzurro, quindi non può essere un fatto automatico, non può essere un fatto naturale, ma deve essere un fatto meccanico che dobbiamo fare noi. Allora abbiamo immaginato un progetto vero e proprio un percorso virtuoso nel quale viene lavorata la Posidonia spiaggiata da un macchinario nuovo che è stato da poco realizzato con un doppio cilindro, ora cerco di spiegare in maniera, insomma, però poi nei prossimi giorni vi daremo anche notizia e documentazione cartacee che possa anche essere così approfondita. una macchina che abbia questo doppio cilindro, il primo cilindro, la Posidonia messa all'interno deve essere separata al rifiuto e nel secondo deve essere separata dalla sabbia. È un lavoro non banale, il macchinario è particolare perché altre macchine simili erano state messe in campo ma non riuscivano ad ottenere questo risultato come questa macchina. Ricordiamo anche l'intervento che ci fu alcuni anni fa, fatto tempo fa con una macchina simile che aveva un solo cilindro e una sorta di lavatrice insomma che cercava di, però per gravità per togliere il rifiuto e non aveva l'effetto sperato. Oggi abbiamo, la tecnologia ha fatto dei passi in avanti e quindi crediamo questa volta di essere, di poter centrare il risultato. Naturalmente la posidonia una volta che si è, è stata ripulita viene imballata con materiale biodegradabile, viene proprio rotto e imballato a queste, imballe come si usa nel caso del fieno, è posizionata sul pontone e poi portata all'argo, fatta riaffondare a mare, naturalmente arriva in profondità, poi il materiale biodegradabile che contiene l'alga si scioglie sostanzialmente e quindi l'alga viene rimessa in libertà. Così termina il processo di riportare l'alga nel luogo di partenza sostanzialmente. Ora, tutto questo processo ha necessità di un'autorizzazione perché non c'è ancora una norma, una legge chiara che stabilisce si può fare questo percorso e quindi noi abbiamo pensato in via sperimentale di creare un meccanismo, una conferenza di servizi dove si possa prendere questo progetto e analizzarlo, invitare la conferenza di servizi, il ministero, la regione, la provincia, l'ARPAC, la capitania di Porto, tutti gli enti che hanno una competenza in questo percorso e presentare a loro questo progetto, un progetto esecutivo che possa essere vagliato da questi enti. Quando ognuno di questi enti avrà dato il suo parere positivo, a quel punto la conferenza di servizi autorizzerà il progetto, quindi si potrà mettere in campo questo progetto. Per arrivare a essere realizzata naturalmente manca la parte finanziaria perché va anche poi realizzata dal punto di vista finanziario e noi ci auguriamo di essere aiutati dalla regione e dal ministero in questi termini, ma se dovesse capitare che nessuno ci aiuta a finanziare questo progetto, che abbiamo messo in campo questo progetto, tra l'altro sperimentare, saremmo i primi a metterlo in campo, vuol dire che lo faremo con le nostre forze. I tempi sindaco di realizzazione per quanto riguarda... Ma noi quello che dobbiamo fare ora per accelerare e per fare in modo che la conferenza di servizi dopo pochi incontri possa determinarsi è andare ente per ente a portare il progetto. Quindi io personalmente mi richerò al ministero, mi richerò in regione nei prossimi giorni e presenterò agli enti competenti il progetto, che lo possono cominciare a guardare, darei suggerimenti. Quando lo conoscono in maniera approfondito e quindi saranno convocati a questo tavolo, non potranno fare altro che dare un parere positivo perché già conoscono tutto e già ci sono delle valutazioni diverse o delle richieste di integrazione o addirittura delle richieste di modifica del progetto stesso, noi lo faremo in tandem, in collaborazione con loro, così quando lo presenteremo nel progetto nella fase finale avremo già ottenuto sostanzialmente il loro parere e la loro collaborazione. Questo accorcerebbe i tempi. Noi contemporaneamente stiamo lavorando però, proprio per avere anche la provvista finanziaria, appena avremo in contatto il ministero e la regione gli enti più importanti, avremo anche la procedura eventualmente di gara per scegliere se l'operatore economico dovrà svolgere questo servizio e lo faremo in deroga perché la normativa consente di svolgere del legale anche in deroga, anche non avendo la parte finanziaria, avviamo la procedura in modo tale da cominciare a selezionare chi potrà fare questo intervento e una volta che avremo ottenuto l'utilizzazione avremo già anche l'operatore economico che svolgerà il lavoro, a quel punto potremo, questa corsa normalmente ha l'obiettivo di arrivare entro l'estate. Io mi auguro che questo accada naturalmente, ma se non dovesse succedere l'importante comunque è arrivare fino in fondo. Anzi perché mancano solo 4 mesi all'inizio della stagione protestiva? Penso che siamo ancora in tempo, ce la possiamo ancora fare e poi quando si comincia un percorso, quando si comincia un'impresa bisogna cominciare con uno spirito positivo, quindi se cominciamo a dire non ce la facciamo per l'estate, abbiamo ancora cominciato, poi vediamo. Noi cominciamo con l'idea di farcela, dove se succedere che non ce la facciamo l'importante è arrivare fino in fondo. Benissimo, restiamo sempre sul porto, quindi dopo la riqualificazione si spera nei tempi brevi della spiaggetta della marina, insomma del porto turistico, altri interventi, lavori, quindi si prospettano nell'immediato? C'è un intervento importante di cui abbiamo parlato, di restyling del porto, quindi con nuovi marciapiedi, rifacimento dell'illuminazione, insomma un intervento che dà nuova vita, vitalità al porto stesso, anche in termini proprio di comodità di accesso al porto. E questa è un'altra cosa importante perché andiamo finalmente a mettere mano in un'area che anche lì per tanto tempo, per tutta la serie di problematiche non si avrà riuscito a intervenire in maniera decisa. Ecco quindi mi fa piacere che riusciamo a mettere mano anche al porto, sapete che poi una volta che abbiamo realizzato questo progetto non è l'unico nel breve che verrà finanziato, ma stiamo lavorando anche per il famoso dragaggio del porto stesso e quindi dopo questo intervento che ci auguriamo di terminare anche questo entro l'estate avremo da a che fare con il dragaggio, questo però se ne parlerà dopo quest'estate, quindi un lavoro continuo in un'altra area della città, prima abbiamo parlato di locali del mattine, poi abbiamo parlato delle scuole, ora stiamo parlando del porto. Come vedete non ci fermiamo, lavoriamo a 360 gradi su tutta una serie di interventi in città e poi c'è chi dice che siamo un'amministrazione che siamo fermi. Io non mi fermo mai, quindi non so come si fa a dire, però ci sta. Si ferma e perduto, quindi ci auguriamo che il sindaco non si fermi mai. Ricordiamo anche che con il dragaggio del porto c'è la possibilità che le navi da crociera possano attraccare a rada? No, questo diciamo è una cosa diversa, nel senso che noi cosa otteniamo? Andiamo a ottenere una profondità maggiore nelle aree dove sono praticamente i pontili. Guadagnare un metro, due metri di profondità significa avere la possibilità di mettere barche più grandi. E circoscritto ai pontili. E circoscritto all'area interna al porto. Ok, area interna, sì. Ma io su questo possiamo anche sfatare un tabù. Insomma, io più che la nave da crociera, noi dovremmo, questa è un'idea progetto di medio e lungo periodo, noi dobbiamo cercare di prendere le imbarcazioni grandi, gli yacht grandi, sono quelli che portano realmente economia. Certo, la nave della crociera significa migliaia di persone che arrivano, scendono, però sono come cavallette, passano, girano, hanno quasi tutti i servizi già a bordo però, quindi vengono più che l'altro per visitare. Invece immaginate uno yacht importante che arriva, deve comprare vettovagliamenti, quindi acquisterebbe da mozzarella a salumi a prodotti alimentari, scende a terra e quindi vive di più la vita della città. Molto spesso questi si fermano anche e utilizzano le attività locali, ristoranti, bar, non solo migliaia di persone che arrivano e sono direzionate dalle guide, ma vivono la città. Quindi io penso che dobbiamo puntare soprattutto su queste, queste grandi imbarcazioni che portano realmente l'economia al porto stesso, almeno gli esperti così ci dicono. Poi abbiamo già fatto l'esperienza di nave da crociera, come sapete, in passato e questo non vuol dire che ci teneremo indietro a rifarlo, anche perché noi abbiamo, come sapete, ormai firmato un protocollo da un punto di vista turistico con Castellabate e con Capaccio Pestum. Mi ha tolto la domanda perché volevo proprio chiederle in che cosa consiste. La delibera comunale lasciava un po' intendere che fosse mirato ai fini turistici, però nel dettaglio questo protocollo che vede queste tre capitali del Cilento, se così le possiamo definire perché sono il fiore all'occhiello un po' turistico del Cilento, in che cosa consiste? Il concetto base è quello che Agropoli da sola non va da nessuna parte, ma anche Capaccio Pestum, anche Castellabate da sola può fare poca strada. La logica che deve in qualche modo tenerci insieme è quella della sinergia su progetti comuni. È evidente che Agropoli, Capaccio e Castellabate, essendo su un unico litorale ed essendo di per sé comunque complementari, perché ognuna di questi cittadini ha delle peculiarità diverse. Capaccio ha naturalmente la zona archeologica che è importantissima, ma ha anche tantissime attività nel campo dell'alberghiero, quindi alberghi, ha una grossa forza nel campo enogastronomico, quindi stiamo parlando della mozzarella, quindi ha da questo punto di vista grande attività. Agropoli ha una rete commerciale importante, ha il porto, Castellabate a sua volta anche essa ha il porto, hanno ancora un 300 storico importante, cioè riusciamo a fare rete perché ognuno con le sue peculiarità aggiunge qualcosa a questo unico progetto turistico. Ecco perché lo stesso fatto di partire insieme e andarsi a presentare a una fiera, facciamo un conteggio banale, tutti insieme riusciamo ad arrivare a quasi 20.000 posti letto, allora tu con 20.000 posti letto puoi andarti a sedere con un tuo operatore importante e dire io ho 20.000 posti letto, non si parla di 1.000, di 2.000, ma di 20.000. Puoi portare un progetto serio di turismo e di rapporto con la Cina, che so io, la Cina ma questo è un periodo particolare, ma con la Russia, con i paesi dell'est, con gli Stati Uniti, insomma puoi fare sistema realmente e presentarti in maniera credibile. Questo è il primo passo in avanti che noi dobbiamo fare, cioè quello di poterci presentare in maniera forte, in maniera credibile a parlare con gli interlocutori con cui dobbiamo per forza avere a che fare. Ecco che lì quindi tante cose possono essere. Allora se io mi vado a sedere per esempio oggi con un operatore che gestisce l'Avita Croce, la posso dire non parlo solo come Agropoli, ma parlo come Agropoli, Capaccio, Pestum, Castellabate e dico benissimo noi siamo questo e certamente che io potrò avere un peso maggiore in termini di interlocuzione, già solo questo ci dà una maggiore forza per non raccontare a tutte le altre cose che insieme si potranno fare e che vedrete realizzato poi nei prossimi mesi. Quello che chiamano destinazione Cilento è il sistema Cilento evidentemente che poi è il brand più importante nel quale ci troviamo, però in questa fase prima che il Cilento diventi un brand veramente unico e che tutti i comuni del Cilento sappiano fare sistema, noi ci siamo avviati e questo percorso vuole essere anche un inizio di un percorso più lungo che deve portare questa costa a allungarsi a tutto il Cilento e il brand finale deve essere proprio il brand Cilento. Bene, dal porto ci spostiamo in località Campamento dove c'è la fornace, una realtà insomma culturale che è nata pochi anni fa e che però anche qui i cittadini non si sono risparmiati di criticare perché è spesso chiusa, perché ancora non attiva nel pieno delle sue funzioni. Che cosa possiamo dire quindi ai cittadini? Molto semplicemente, noi abbiamo, perché la fornace potesse andare a pieno regime serviva completare con delle strutture interne che ora serviranno per rendere veramente fruibile a 360 gradi. Le procedure amministrative però hanno dei tempi, come abbiamo detto prima c'è stato un tempo che abbiamo dovuto attendere per riuscire a ottenere l'autorizzazione per la rotonda. Stesso ragionamento vale per l'intervento che abbiamo dovuto fare all'interno della fornace. Abbiamo perso un po' di tempo, non per nostra volontà, ma proprio per problemi di carattere buonocratici che non sto qui a raccontarvi, odiosi peraltro, che ci hanno fatto perdere un po' di tempo. Ma ora i lavori sono terminati, quindi oggi la fornace con questo turino di 100.000 euro è resa fruibile a 360 gradi. Quindi vedrete nelle prossime settimane una nuova attività, una nuova vita della fornace stessa che diventerà un altro motore importante della nostra città. Noi l'abbiamo ristrutturata, l'abbiamo messa a regime perché vogliamo sia un attrattore della nostra città, che messa a sistema con castello, con palazzo civico, con teatro, insomma diventa un elemento di traino. Quindi di figurarsi se non lo volevamo attivare. Ma nei prossimi giorni la risposta migliore a chi ha criticato, l'avremo nei prossimi giorni quando la vedranno nuovamente aperta e funzionante. Funzionale sarà anche la villa comunale destinata ai bambini e alle famiglie. Qualche mese fa l'amministrazione ha annunciato degli interventi. Anche qui alcuni cittadini si sono lamentati che sono pochi gli spazi verdi in città. Possiamo rassicurare le famiglie e magari dare anche dei tempi per quanto riguarda la fruibilità di questo importante spazio verde della città. Sapete come Agropoli è cresciuta male. Non devo raccontare io la storia di una città che negli anni 70 ha avuto una crescita abnorme senza gli standard urbanistici. Noi abbiamo un centro cittadino con palazzoni alti 10 piani e senza parcheggi per le auto. Quindi è evidente che la crescita abnorme non ha funzionato. Allora si è intervenuto con interventi, diciamo così, un poco una tantum, come per esempio l'intervento perfettamente riuscito della trasformazione del campo Landolfi in parcheggio. Ecco, quello era da compensare la necessità di posti auto che prima era enorme, che si riferiva non soltanto ai residenti ma proprio alla vita del commercio. E così altri interventi dovremmo fare per dare più possibilità di luoghi di incontro, in particolare di luoghi di incontro per i bambini. È evidente che il Parco Bonifacio è il luogo che oggi abbiamo a disposizione e dobbiamo soltanto renderlo, dargli nuova vita, cosa che faremo nei prossimi giorni. Anche qui siamo aspettando l'approvazione del bilancio di previsione. Io l'ho annunciato nel mio saluto di inizio anno, ci tengo tantissimo a farlo diventare un vero e proprio parco divertimenti, il nostro Parco Bonifacio. Deve essere il luogo dove le famiglie devono andarsi a divertire, devono portare i loro figli, quindi ci tengo tantissimo e che credo che un parco inclusivo dove si possa andare veramente tutti insieme sia una dia grande dignità alla nostra città, oltre che un servizio importante alle mamme e ai genitori e ai nostri figli in generale. Quindi ci tengo tantissimo e sarà forse probabilmente, anche se non tanto costosa, una delle opere che mi sta più a cuore. Quindi ci sto lavorando veramente con impegno e con costanza. Anche qui, quello che voglio raccontare poi ai nostri cittadini, insomma, il lavoro non si fa in un giorno, in un mese, si fa ora per ora, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese e questo lavoro costante nel tempo porta poi risultati. Io vi chiedo soltanto un po' di pazienza perché piano piano poi arriviamo, come siamo arrivati a mattina e abbiamo inaugurato il rotondo, così faremo tutti e porteremo a termine tutti gli impegni che noi ci siamo dati, naturalmente. Abbiamo ancora tempo, il nostro mandato elettorale è soltanto a metà e poi alla termine dei cinque anni faremo i conti. Se saremo stati bravi allora vi chiederemo ancora il consenso, altrimenti se non siamo stati bravi ci cambiate, non c'è problema. Restiamo in tema di ambiente, insomma è bello vedere anche che il sindaco sorride e scherza anche sul suo mandato e sulla sua ricandidatura nella città di Agropoli per le prossime elezioni. Negli ultimi consigli comunali sono stato un po' provato perché alcuni comportamenti mi hanno dispiaciuto al punto di farmi cambiare umore, però vi prometto che non succederà più e che non mi faranno più cambiare umore, io sono una persona tranquilla, serena, sorridente e rimarrottale. È stato un momento, come capita nella vita di tutti, una parentesi, ma non mi faranno arrabbiare più. Ce lo auguriamo. Sindaco, rimaniamo quindi in tema ambientale. Al via il primo lotto per la realizzazione dell'isola in località a Malagginia. Anche qui sono pronti alle barricate addirittura per impedire la sua realizzazione. Il consigliere d'opposizione a Costinabate nei giorni scorsi è venuto qui in redazione e ha rilasciato un'intervista dove ha definito un po' questa delibera, inno alla gioia dell'amministrazione comunale. Questa cosa non l'ho capita, voi me la farò spiegare. Sì, perché praticamente si riferisce alla normativa regionale che tutti i comuni che non hanno approvato il PUC entro il 31 dicembre 2019 decadono da ogni strumento urbanistico e quindi per questo motivo il Comune di Agropoli, inno alla gioia, ha dato il via a questo primo Io non so, l'ingegnere Abbate è progettista di diverse PUC nei comuni di Mitrofi, progettista so di isole ecologiche altrove, come si è impuntato, per quale motivo quest'isole ecologiche di Agropoli non deve nascere? Sottolinea soprattutto il fatto che c'è una condotta d'acqua ad alta pressione sotto quel sito e poi spendere anche 118 mila euro per 4 mila metri quadrati è un po' eccessivo. Dispiace molto perché non so se l'ingegnere Abbate riguardo a questo argomento ci è o ci fa, nel senso che non so se si è confuso o, e mi auguro che sia confuso, perché non è il tipo che tendenzialmente non ha un'està intellettuale. Allora andiamo a questo punto, visto che mi hai detto queste cose, andiamola a chiarire. Innanzitutto, sono 8 mila metri quadrati e non 4 mila. Il costo non è 118 mila euro ma è 100 mila euro, 100 mila euro di cui parte delle spese sono a carico del proprietario. Quindi si tratta di un costo di 12 euro al metro di un terreno pianeggiante fronte strada. Un terreno pianeggiante fronte strada che nel PUC diventa zona industriale e nel PDF zona agricola. Quindi è un affare per il comune, perché noi acquistiamo un terreno. Tra l'altro con un impegno preso nel 2013, già con l'idea di costruire l'isola ecologica, quindi con un prezzo boccato a quella data, come ho detto questo è un registro di 12 euro al metro, pianeggiante fronte strada. Stavo dicendo quindi con la possibilità che nel PUC diventa zona industriale, quindi aumenterebbe di valore, quindi il proprietario è un folle, perché ha accettato, ha mandato l'impegno di venderci il terreno a quella cifra e correttamente, come si fa tra uomini seri, non si è tornato indietro la parola e l'ha mandato, perdendo l'occasione di prendere più soldi. Quindi qua all'inverso, è un affare per il comune. Poi un'area libera, ho detto fronte strada, quindi dove si può fare un intervento semplice. E quindi noi andiamo avanti in quella direzione perché è l'unica area, tra l'altro, che ha queste caratteristiche. Noi abbiamo avuto dei confronti, anche con il consigliere Abbato, abbiamo detto ma trovateci un'area altrettanto comoda, perché è fronte strada, altrettanto lontano dal centro cittadino, che non crea quindi, non arrega problemi ai cittadini di Agropoli. Allo stesso costo, così vantaggioso, che non bisogna fare interventi perché è pianeggiante fronte strada, se c'è un terreno diverso lo andiamo a prendere. Non sono stati in grado di trovare un terreno diverso, perché non c'è un terreno migliore di quello, in termini di prezzo, in termini di comodità, in termini di utilizzo. E quindi qual è il problema? Che facciamo una cosa buona alla città, quindi abbiamo un'opposizione che non si oppone alle cose cattive, si oppone alla cosa buona, perché sai cosa succederà quando avremo realizzato riscologico. Innanzitutto i tempi di attesa per il racconto di ingombranti, che oggi sono molto lunghi, si rutturranno praticamente a zero, perché potrà benissimo il cittadino andarlo a portare direttamente lui, l'ingombrante. Ci sarà la possibilità da parte del cittadino di consegnare direttamente il rifiuto, magari con meccanismi di penalità grazie al peso e la consegna stessa. ci sarà la possibilità di togliere quella pratica che si sta avvenendo in questi mesi, quello del utilizzo di alcune aree della città per la trasferenza del rifiuto stesso, perché la trasferenza verrà fatta nell'isola ecologica e quindi andremo a risolvere tutta una serie di problemi, migliorando il funzionamento della raccolta, dando la possibilità ai cittadini di risparmiare, dando la possibilità ai cittadini di avere meno tempo di attesa per la raccolta dei rifiuti, sono solo cose positive, senza che noi andiamo a fare nient'altro che un'isola ecologica, non una discarica, un'isola ecologica. Eppure si parla di barricate rispetto a un servizio che noi diamo alla nostra città, questo è assurdo. Ma mi viene poi ancora da pensare e da fare alcune osservazioni, perché poi si è unito al consigliere Abbate anche il sindaco di Ogliastro, il quale ci fa ricorso al Tarno, e io dico al sindaco di Ogliastro, dico ai cittadini di Ogliastro che si sono lamentati, a coloro che hanno costruito questi comitati contro l'isola ecologica, dico all'ingegnere Abbate, con protocollo numero 3269 del 09-08-19 c'è una comunicazione al SUAP del comune di Ogliastro per la realizzazione di un impianto di biometano, cioè in prossimità della nostra isola ecologica, lato comune di Ogliastro, in una zona industriale, ci sarà la costruzione di un impianto di biometano. Cosa è un impianto di biometano? È un digestore anaerobico dove potranno essere trasformati reflui zootecnici e fognari e frazione di rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata. Allora, mentre nella nostra isola ecologica certamente l'umido non rimarrà, perché arriva il camion piccolo, si trasferisce nel camion grande e riparte, lì nell'isola ecologica ci saranno soltanto dei cassoni dove verrà messo questo materiale, questi rifiuti ingombrandi che conosciamo, voglio dire la scrivania, la sedia rotta, che non vanno, mi risulta, problemi, invece nella zona industriale, vicino all'isola ecologica nostra, andrà a essere costruito un digestore anaerobico, un impianto di biometano che si è realizzato perfettamente e se tutti i crisi di legge vengono rispettati, io non ho niente in contrario, ma certamente lì arriveranno reflui zootecnici e fognari, certamente c'è la possibilità che arrivi lì frazione di rifiuto organico, quindi mentre nella nostra isola ecologica questo succederà, a due passi in lato ogliastro ci sarà la costruzione di un impianto di biometano. Allora dico io, se è proprio questa battaglia, io sono contrario, questi cittadini si interessano proprio di questo o pensano soltanto a quello che fa il sindaco di Agropoli? Allora questo è l'appello che faccio, allora cosa mi viene da pensare? Mi viene da pensare che è tutta una cosa strumentale, mi viene da pensare che non è un problema di isola ecologica, è un problema di cercare di fare opposizione, cercare di fare brutta figura al sindaco di Agropoli a questa amministrazione, ma capite che lanciando strade contro il sindaco, specialmente se bloccate opere importanti, fate il mare della nostra città, è qui che io non riesco veramente a capire come ci si può comportare in questo modo, ma credo che l'opposizione deve essere anche costruttiva, non può essere soltanto distruttiva, non può essere sempre contro qualcuno, perché facendo l'opposizione, attaccando Adamo Coppola, quale sindaco, fatelo pure, ma non danneggiate la vostra città, non rallentate i tempi crependando la burocrazia con continui ricorsi, di opere importanti che servono alla crescita della nostra città. Allora, l'isola ecologica non va bene, ma l'impianto di biometano va bene? Allora, abbiamo il ragionamento, cosa dovrei fare io ora sindaco di Agropoli? Mentre il sindaco di Orleastri ha fatto richiesta di accesso agli altri di un comune di Mitrofo, il nostro, ha fatto ricorso al Taro, cosa dovrei fare io? Dovrei richiesta di accesso agli altri per capire che sta facendo lui nella sua zona industriale? Dovrei cominciare un ricorso al Taro perché mi preoccupo che cosa può portare questo imbiato di biometano che sta facendo costruire nella sua zona industriale? E quale rischio e pericolo può portare questo imbiato di biometano che sta facendo costruire lui? Allora, se vogliamo fare la rincorsa, la polemica, a gridare al lupo al lupo, lo sappiamo fare tutti e tutti quanti possiamo ottenere risultati, perché gridando a pericolo, questo imbiato di biometano cosa ci porterà? Questo lo possiamo fare, ma se lo facciamo non facciamo altro che fare confusione, danni, no? Io non lo faccio, però non voglio neanche che venga fatto a noi, non voglio neanche che venga fatto a alcuni di Agropoli. Allora siamo seri, siamo seri e mi rivolgo al sindaco di Ogliastro, mi rivolgo al consigliere Abbate, mi rivolgo a Goro, cerchiamo di essere seri. L'isola ecologica non è una cosa negativa, è una cosa utile alla città, non porterà cose negative, non porterà rifiuti, non porterà niente di tutto questo. Ci sono in tutti i comuni, anche nel comuni di Ogliastro ci sta l'isola ecologica e come non porta confusione quella, non porterà confusione la nostra. Anche qui che tempi ci saranno per la sua realizzazione, sindaco? I tempi non li conosco e non so neanche quando cominceranno, noi abbiamo fatto una delibera con la quale abbiamo stimolato l'inizio dei lavori, non so quando cominciano, non so questi sono problemi che riguardano, io mi auguro prima possibile, insomma mi auguro veramente prima possibile, non so quando cominceranno e aspetterò insomma di vedere poi queste barricate che senso avranno? Ripeto, per me sono barricate ideologiche fatte ad arte per motivi politici, per andare contro il sindaco, non per un reale bene della città e credo che questo, la città di Agropoli non io, io mi merito tutte le critiche possibili, ma la città di Agropoli non lo merita. Dall'ambiente ci spostiamo alla sanità, è un pensiero che ormai martella nella testa di tutti i cittadini di Agropoli dopo che insomma il pronto soccorso è uscito dalla rete dell'emergenza e urgenza e adesso si ritrova ad avere un punto di primo soccorso anche se chiamato pronto soccorso. Ecco ci sono delle novità, noi non ci stanchiamo mai di chiedere all'amministrazione comunale che è in stretto contatto insomma con la regione, con il direttore generale dell'AS Mario Iervolino, ci sono novità sindaco, possiamo dare una boccata d'ossigeno ai cittadini magari dando delle buone notizie? Nell'intervista che ho fatto proprio penso con voi qui in Cenandociano ho raccontato che le cose importanti sono le delibere di assunzione del personale, c'è una delibera per 1 milione e 200 mila euro in termini di servizi che autorizza lo scorrimento di una granatoria per 15 rianimatori, questa è una bellissima notizia perché noi servono per coprire il turno H24 3-4 rianimatori e se ne arrivassero già 2-3 sull'ospedale di Vallo, quindi Vallo Agropoli, noi grazie anche ai rianimatori presenti a Vallo penso che riusciamo a coprire il turno H24 ad Agropoli, questo mi fa enormemente piacere, so che ci sono mosse anche le gradatorie per quel che riguarda i radiologi, so che il laboratorio analisi ormai è pronto a partire H24, quindi se mettiamo insieme, giusto un po' in ritardo è l'acquisizione dei cardiologi, ma se mettiamo insieme queste notizie e ci riflettiamo un attimo abbiamo fatto lo staff che ci serve per avere un pronto soccorso medico H24, rianimatori, cardiologo, medico internista e personale infermieristico, siamo pronti per stare aperti H24 grazie poi ai radiologi, al laboratorio analisi e ai radiologi che ormai fanno un po' tutto, perché la radiologia è diventata il luogo dove immediatamente si fa l'ecografia o la radiografia per capire le necessità e le esigenze del paziente, quindi così come si sta andando a formare, io penso nel breve periodo di qualche settimana potremo anche pensare di avere questo prodotto, pronto soccorso medico H24. So che i lavori delle sale operatorie sono terminati, bisogna soltanto spostare ora il reparto delle malattie alimentari che sta vicino alle sale operatorie, lo va spostato al terzo piano, questo spostamento credo ci vorrà tecnicamente, mi dicevano i tecnici circa un mese e una volta che sarà fatto questo spostamento siamo pronti a chiudere il cerchio e a presentarci diversamente. Ripeto, il lavoro è quotidiano, il lavoro è costante, è continuo, speriamo di arrivare anche qui a risultati. Però è giusto fare anche chiarezza su, lei ha detto pronto soccorso medico, quindi possiamo chiarire la differenza tra pronto soccorso medico e pronto soccorso che invece ricade nell'emergenza, urgenza? Sono cose due diverse. Chirurgico e medico. Il pronto soccorso chirurgico vuol dire che uno arriva nel pronto soccorso senza ambulanza però? No, arriva con l'ambulanza, arriva al pronto soccorso, il pronto soccorso chirurgico, arriva al pronto soccorso, arriva al pronto soccorso, viene visitato dai medici, quindi lì c'è lo staff con il rianimatore, con il medico internista, con il cardiologo eccetera, laboratorio analisi e radiologia. Si inquadra il paziente, ok? Ora, nel caso del pronto soccorso chirurgico, se c'è da fare un intervento, si prende il paziente e si porta nel reparto. Nel nostro caso i reparti non ci sono, quindi arriva il paziente, si capisce quello che ha, si stabilizza e si porta per l'intervento chirurgico. Quindi ancora non siamo nella fase dell'intervento chirurgico, quindi noi cosa abbiamo ad avere da qui a poco? Abbiamo ad avere che se qualcuno si sente male, che se qualcuno gli viene l'infarto, viene portato ad Agropoli e lì il rianimatore lo tiene in vita. Primo passo fondamentale perché il tempo che ci vorrà da Agropoli per arrivare a Vallo è un tempo prezioso che noi non ci possiamo giocare. Quindi se io ho uno staff medico, H24, che quando arriva il paziente me lo stabilizza, io intanto gli ho salvato la vita. Quindi lei con questo che sta dicendo vuol far capire che Agropoli rientrerà anche nella rete dell'emergenza urgenza, perché è solo così che l'ambulanza arriva all'ospedale di Agropoli, altrimenti noi cittadini ci dobbiamo regare all'ospedale da soli, senza ambulanza e poi lì ovviamente si svilupperà tutto l'iter. In questo caso... Mi servono i medici per dare questo primo soccorso, quindi è un primo passo. Poi, ma tu stai parlando pure di sale operatori? Sì, perché le sale operatori, che queste due sale operazioni che saranno montate, saranno utilizzate da Vallo in questa fase iniziale per interventi, diciamo, in week surgery, cioè interventi che necessitano di una degenza di pochi giorni, piccoli interventi. Dici, ma che ti serve questo fatto che fai, perché innanzitutto in queste sale operatori noi avremo due posti di una sorta di rianimazione, quindi tipo rianimazione, due posti che saranno utilissimi proprio nel caso, diciamo, dell'emergenza. Se arriva all'emergenza del proprio soccorso medico, avremo questi due posti collegati alle sale operatori di rianimazione, non proprio di rianimazione, diciamo, il termine tecnica è la verità, mi sfugge, non me lo ricordo, quindi di questo posso essere libero operato, però è una sorta di rianimazione, due posti letto di sorta di rianimazione. E potremmo cominciare a utilizzare la sale operatori per i piccoli interventi, dalla cataratta al piccolo intervento che necessita i 4-5 giorni. E questo significa riavviare un meccanismo, perché noi guardiamo non solo nel breve periodo, ma anche al medio periodo, quindi ci prendiamo il pronto soccorso medico H24 e siamo tranquilli se qualcuno sta a mare lo stabilizziamo. Intanto cominciamo a far lavorare sale operatorie, diciamo, ma quello è solo per i piccoli interventi, va bene all'inizio, poi piano piano lo mettiamo a lavorare all'ospedale, lo cominciamo a fare crescere, ci aggiungiamo un altro reparto, poi piano piano arriviamo dove dobbiamo arrivare, perché io non immagino di avere tu curro subito l'ospedale già pronto, io già so che davanti a me avrò un percorso, la battaglia continuerà, dopo che abbiamo ottenuto il pronto soccorso medico H24 dobbiamo continuare, continuare, sarà un percorso continuo e noi non ci fermeremo. Però oggi abbiamo bisogno del primo step che abbiamo presso da tempo e che ancora non siamo riusciti ad ottenere, altrimenti perdiamo fiducia anche noi e dato che io non devo perdere fiducia, ho detto quest'anno non perderò fiducia mai, perché non perderemo la strada, abbiamo bisogno subito di questo primo risultato in termini di sicurezza. Bene, quindi ho l'augurio che tutto questo si possa realizzare nel breve tempo possibile, proprio per evitare altri spiacevoli inconvenienti per quanto riguarda la salute dei cittadini. Io cerco di impegnarmi, però quello che talvolta vedo, mi cadono proprio le braccia, io vedo alcuni amministratori che oggi non lo sono più, che mi fanno dei manifesti in cui mi dicono cose assurde. Si parla del fatto che il piano spedaliero di cui si è parlato, il piano triennale degli interventi delle opere pubbliche dell'AS, doveva passare per il Consiglio Comunale di Agropoli. C'era un manifesto in questi termini, perché non è passato per il Consiglio? Ma che c'entra? L'ex vice sindaco della città di Agropoli. Ma che c'entra? Io voglio domandare il Consiglio Comunale di Agropoli con il piano spedale dell'AS, ma il piano spedale dell'AS deriva dal bilancio della Regione Campania, che è un altro ente, che dà i soldi al direttore generale che stabilisce come deve fare il piano triennale. Che c'entra il Consiglio Comunale di Agropoli? Il Consiglio Comunale di Agropoli decide sul suo bilancio, mica sul bilancio della Regione. Allora io dico, ma queste persone si confondono o non so cos'altro? Ok, chiusa parentesi sull'ospedale civile di Agropoli, anche se il Consigliere Costino Abbato ha lanciato un appello, magari non so se lo vuole accogliere lei come sindaco, oppure cercheremo di realizzare questa trasmissione proprio incentrata sull'ospedale civile di Agropoli con diversi esponenti politici, ma anche dell'AS, la Salerno, magari il direttore Iergolino, che inviterò personalmente in questi giorni a venire qui in redazione per poter approfondire ancora di più questa storia infinita che ci auguriamo possa terminare come ho detto prima. Credo che puoi ben testimoniare che non mi sono mai ritirato dall'ambiente a un confronto anche che io penso sia doveroso da parte mia essere disponibile a confronto. E' vero, ogni qualvolta abbiamo chiamato il sindaco per qualsiasi evenizio, insomma lui è sempre intervenuto senza nessun problema. Non è da nascondere, mi fa piacere raccontare le cose, anche perché diciamo parlando con i cittadini ho la possibilità tramite voi di parlare con più gente possibile, questo mi aiuta a spiegare le mie ragioni. Bene, quindi dalla sanità ci spostiamo al Carnevale di Agropoli, 49esima edizione, rischiava di saltare la manifestazione, polemiche ci sono state anche su questa iniziativa importante per la città di Agropoli perché vede migliaia di persone venire qui in città per assistere appunto alla sfilata dei carri allegorici realizzata dai maestri della Cartapesta, quindi scongiurata la non realizzazione dell'evento, ecco si parte domenica 16 febbraio. Qui dobbiamo anche puntualizzare qualcosa perché hanno definito il Carnevale di quest'anno un Carnevale riciclato. Sindaco, cosa lei vuole rispondere a questa affermazione? È un peccato perché anche qui le risposte verranno date domenica quando i carri sfideranno e quindi si comprenderà se c'è stato qualcosa di riciclato. Mi meraviglio che la polemica viene da chi ha fatto il carrista, ha fatto i carri e sa che certamente alcuni pezzi vengono riutilizzati, i carrelloni, alcune strutture in ferro, alcuni pistoni, alcune strutture sono sempre le stesse, ma è evidente perché sarebbe assurdo ricomprare da capo, uno già le ha, ma i temi, le forme sono tutte nuove, non ci sono idee riciclate. Mi meraviglia molto che chi ha fatto il carrista per tanti anni e ha raccontato di voler combattere per il Carnevale, oggi arrivi a dire queste cose. È brutto perché chi fa parte di una squadra, la vive per anni, poi all'improvviso esce fuori e parla male di quella squadra con cui ha combattuto per tanto tempo, è brutto. Non voglio commentarla diversamente, è molto brutto perché poi ci rimane male chi è rimasto dentro e che è continuato a combattere, ha continuato a fare del proprio meglio. È quella persona che parla di Carnevale, come dicevi, Carnevale riciclato, era quello che l'anno scorso rappresentava il Carnevale, il Presidente del Comitato a cui tutti noi avevamo dato fiducia, il Sindaco ha dato fiducia, i carristi hanno dato fiducia. Ha praticamente avuto nelle mani tutto, il Carnevale ha avuto anche uno splendido successo l'anno scorso, però poi qualcosa si è rotto dopo, del suo rapporto con i carristi, delle difficoltà della rendicontazione, della difficoltà nel pagare i conti non sono cose che dico io, sono cose reali che sono accadute e che lui stesso sa. Quindi lui che probabilmente aveva delle responsabilità rispetto a questa criticità che abbiamo vissuto per far proseguire questo progetto. Io l'ho incontrato e insieme abbiamo incontrato i carristi più volte per cercare di scongiurare la crisi e nel momento che riusciamo a scongiurarlo, a che fare? Tu te ne vai. E per quale motivo? Lui lo sa. A me, io non lo so, a me dispiace di questo comportamento, mi dispiace molto, ma noi andiamo avanti. Se vorrà tornare, io so, le braccia nostre sono aperte, perché come ci vuole la parabola del figlio prodigo, noi la facciamo nostra, quindi se vorrà tornare siamo, come ho detto io non mi voglio arrabbiare più, se vorrà tornare noi siamo a disposizione, lo aspettiamo a braccia aperte, il progetto continua, io ho preso impegno, un altro impegno che ho preso è quello di far fare salto di qualità al carnevale. È arrivato il momento in cui il carnevale non può vivere soltanto tre mesi, gli ultimi tre mesi prima del mese di febbraio. Se ne comincia a parlare a settembre, ottobre, novembre, insomma. No, diciamo che l'idea del carnevale, almeno nel nostro caso, abbiamo cominciato sostanzialmente fino a novembre, inizio dicembre. E quindi viverla… La nuova programmazione. La nuova programmazione non possiamo vivere tre mesi. Il carnevale deve vivere tutto l'anno, quindi dobbiamo trovare una location adatta, data ai carristi, per poter lavorare al progetto carnevale tutto l'anno. Questa è la richiesta che loro hanno sempre fatto. Questa è la richiesta che tante amministrazioni del passato hanno preso impegno e poi non hanno realizzato, perché si può dare anche di più in termini economici al carnevale, ma se non gli è un posto dove sviluppano le idee, questi carristi che poi sono volontari, che si dedicano al carnevale per amore, devono fare nel ridaglio di tempo. Allora non si può chiedere, perché non sono professionisti, non gli si può chiedere di lavorare gli ultimi tre mesi dalla mattina della sera, perché loro hanno un lavoro, una famiglia da portare avanti. Se hanno invece la possibilità di sviluppare questo lavoro tutto l'anno, nei ritagli di tempo, certamente il risultato finale sarà più grande, più bello, più edusiasmante. Quindi l'impegno che ho preso, e le braccia sono aperte anche al figlio prodigo, sono quelle di tentare in tutti i modi di creare questa cittadella del carnevale, dove poter far crescere, perché no la nostra scuola di cartapesta, perché possiamo dire che ormai Agropoli ha una tradizione in termini di carnevale che può dire la sua. Allora i nostri maestri cartapestai che facciano nascere una scuola di cartapesta qua ad Agropoli, come sarebbe bello, un museo della cartapesta, come sarebbe bello poter vivere questa esperienza tutto l'anno, che poi va a finire il mese di febbraio, ma nulla ci viene di ripetere eventi tutto l'anno intorno al carnevale, potrebbe essere anche, perché no, un meccanismo economico che nel tempo può dare anche dei frutti, vediamo i carnevali più grandi, quello forse più alla nostra portata come Putignano, ma quello di Viareggio, insomma sono meccanismi economici che danno da vivere proprio alle città, io non penso di arrivare a questo. In termini di presenze turistiche che tra l'altro restano sul territorio, io sono stata personalmente al carnevale di Viareggio come Cilento Channel, quindi come televisione, abbiamo un po' parlato con l'organizzatore di questa bellissima realtà e i numeri sono davvero illegatissimi, c'è dietro una squadra che lavora proprio per attirare presenze turistiche e farle vivere il carnevale non un solo giorno, ma anche una settimana. Viareggio ottiene i finanziamenti non solo dalla regione, dalla provincia, dal comune, dallo Stato, insomma è una realtà nazionale, quindi tanti soldi arrivano, però anche noi potremmo aspirare salendo di livello ad avere, perché no, finanziamenti dalla regione, dobbiamo come dire, come succede alle squadre, che tu arrivi, vinci il campionato e sali nel campionato superiore, come dalla Serie B alla Serie A, dalla Serie A alla Champions League, quando sale di livello è una partita diversa e più sale di livello e più i meccanismi economici diventano coinvolgenti e diventano remunerativi, quindi oggi noi siamo a livello base, dobbiamo fare questo percorso in termini di qualità e lo faremo. Quindi non ci resta che invitare tutti coloro che guarderanno la trasmissione a venire in città per questa bellissima manifestazione. La differenza che avremo rispetto agli altri anni è che avremo due carri in meno. Però sarà comunque un successo, perché abbiamo poi migliorato gli spettacoli, abbiamo fatto degli spettacoli in piazza più belli, abbiamo fatto anche non carri, ma tutta una serie di concerti. Sì, c'è un programma definito. Un programma molto più intenso che andava un po' a compensare l'assenza di qualche carro, ma il prodotto finale vi garantisco sarà comunque molto bello. Infatti ribadisco che si parte proprio domenica 16 febbraio in piazza Vittorio Veneto, proprio una mattinata dedicata ai bambini, quindi ne approfittiamo per invitare le famiglie a scendere in piazza e a godersi questo inizio della 49esima edizione del Carnevale, che tra l'altro il prossimo anno festeggerà i 50 anni. Quindi si spera con dei locali confortevoli per i carristi e perché no, con tantissime visite da parte di tanti studenti, non solo del Cilento, ma anche della provincia, della regione, che possano venire qui ad Agropoli e portare il nome di Agropoli in alto. Io cerco di vivere la città tutti i giorni e vivo le aspettative dei cittadini, delle associazioni sportive, insomma vivo le aspettative della città in prima persona, quindi io c'è questo progetto della città del Carnevale, la vivo insieme ai carristi. Oggi ero a scuola per l'inaugurazione della scuola a mattine e le mamme dei mattini mi chiedevano delle cose, io insieme a loro vivevo questo, cioè io cerco di vivere la vita della città come se fosse la mia e quindi invito più persone a avere questo approccio, cioè vivere la vita della città come la propria per dare un contributo positivo, fattivo, dare qualcosa in più che ieri non c'era. Questo è il messaggio che cerco di lanciare tutti i giorni. Basta con le critiche, basta con la confusione, a chi aiuta, io penso a nessuno, certamente non alla città di Agropoli, quindi veramente chiedo per l'inesima volta all'opposizione di avere un atteggiamento diverso, di avere un atteggiamento disponibile e propositivo, non soltanto volto a fare confusione, invangare, è inutile, a parte il fatto che sprecate il fiato, perché se pensate con questo atteggiamento di in qualche modo rendermi più debole, non fate altro che rendermi ancora più forte, quindi invece dateci una mano, datemi una mano a migliorare tutti insieme. Bene, oltre a tutto quello di cui abbiamo discusso oggi, ci sono altri interventi da parte dell'amministrazione comunale previsti magari nel breve tempo, quindi nell'immediato che possiamo dare come news ai cittadini di Cilento Channel. Se non avete, diciamo, per la traduzione, io posso continuare per un'altra oretta, se vuoi, sì, posso dirti per esempio… Diciamo che un'altra ora sarebbe troppo per i nostri telespettatori, però velocemente è giusto per annunciare, abbiamo parlato, abbiamo discusso di realtà che un po' ecco, sono anche al centro dell'attenzione della città di Agropoli, quindi abbiamo chiarito alcuni punti, abbiamo messo a punto quello che l'amministrazione comunale sta realizzando. Adesso mi piacerebbe capire l'attività amministrativa firmata Coppola, che cosa prevede nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per la città di Agropoli, come realizzazione di opere pubbliche eventualmente? Ok, se parliamo di opere pubbliche, i prossimi interventi abbiamo detto quindi la scuola delle gare a mattine e il porto, sono i due interventi in cui andiamo a mettere la prima pietra perché, diciamo così, le gare sono state già terminate e quindi c'è l'inizio dei lavori, quindi qui cominceremo a lavorare. Siamo nella fase invece di finanziamento e di inizio dei lavori di altre tre opere, uno, i 500 mila Euro per le strade comunali, messe in sicurezza delle strade comunali, un intervento fondamentale, alcune strade sono diventate veramente logore, penso a Via Taverne, Via delle Libertà, veramente sono state centrali che rappresentano veramente un elemento negativo anche in termini di immagine per la nostra città e lì l'intervento sarà svolto nelle prossime settimane, si tratta soltanto di fare la gara a parto perché l'intervento è finanziato. Stesso ragionamento dicasi per la rotonda davanti all'ospedale civile di Agropoli, lì sapete è un punto pericoloso, abbiamo immaginato la rotonda per 180 mila Euro, anche qui siamo nella fase della gara e contiamo anche qui entro l'anno di terminare i lavori, sia per gli asfalti entro l'estate, sia per la rotatoria di Agropoli anche qui entro l'estate. Un altro intervento atteso, importante, anche questo finanziato è la ristrutturazione del palazzetto pala di concilio, lì abbiamo un problema come sapete in termini di areazione della struttura, abbiamo un problema sui finestroni laterali che fanno entrare acqua, quindi ci sono un intervento di 300 mila Euro che andrà a rifare il look al nostro palazzetto implementando le tribune come era ai tempi della serie A, quindi lo riporteremo ai vecchi splendori, anche per quello è un gioiellino che va mantenuto sempre vivo, è un intervento di manutenzione straordinario, io credo era necessario dopo tanti anni di utilizzo. Questi sono tre interventi che abbiamo immaginato, finanziati e immaginati realizzati entro fine anno, quindi siamo parlando di opere immaginate ottobre, finanziate entro gennaio, appaltate in miago nel giro di due o tre mesi e realizzate entro fine anno, quindi interventi importanti, strategici che vengono iniziati e finiti da questa amministrazione. Abbiamo parlato poi nel breve periodo anche di immaginare il finanziamento delle caserme, quella dei carabinieri e quella dei vigili, quella dei carabinieri e comissariato di polizia, che sono due interventi molto richiesti, ma altri interventi stanno nella fase di start up di programmazione. Io andrò a discutere con Cassa Depositi e Prestiti per questo tipo di finanziamenti, mi auguro che già dopo l'approvazione del bilancio di previsione, anzi mi do appuntamento subito dopo il consuntivo, quindi che credo approveremo, mi auguro entro fine marzo, ecco entro fine marzo ci rivediamo e vi racconterò le opere pubbliche che cominceranno il percorso entro aprile e verranno realizzate entro settembre-dicembre 2021, quindi già la programmazione delle opere pubbliche sarà immaginata, realizzata, finanziata, programmata e terminata entro la fine del prossimo anno. Quindi ecco che come si vede ormai l'amministrazione ha superato i momenti di difficoltà legati al cambio della contabilità e qua c'è questa famosa sempre storia che si dice che dopo che Alfieri è andato via ci siamo fermati perché Alfieri aveva fatto bucchio, non è vero. Quello che è successo è che è capitata una combinazione perché tra la fine dell'amministrazione e l'inizio dell'amministrazione coppia è cambiata la contabilità, ora siamo nella contabilità armonizzata. La comunità armonizzata imponeva ai bilanci di tutti i comuni, infatti molti comuni non hanno retto, sono andati in dissesto, una riorganizzazione della tipologia delle entrate, una riorganizzazione dei sistemi di bilancio che ci hanno imposto dei sacrifici che non sono dovuti al fatto che c'è stata un'amministrazione prima scelerata, è che le regole che riguardavano il bilancio sono cambiate e quindi abbiamo avuto bisogno di un paio di anni per riassestare il bilancio stesso sulla nuova normativa, perché se avessimo proseguito con quella direzione saremmo andati benissimo con quella logica, ma dato che abbiamo dovuto cambiare, sono cambiate le regole, allora abbiamo dovuto riorganizzare il bilancio per rimetterlo a funzionare di versamento. Ecco che ora, dopo questo intervento l'abbiamo superato, stiamo lavorando e programmando come si faceva 5 anni fa. Naturalmente gli obiettivi sono diversi, perché i miei obiettivi sono diversi da quelli di Franco Alfieri. Io non miro a interventi di opere pubbliche di milioni di euro, come è stato fatto, perché era allora necessario fare degli interventi che cambiassero la città. Io devo ottimizzare i servizi in città, percorsi diversi, quindi opere da 4, 500 mila euro in diversi punti della città, per renderla più funzionale e più efficiente, quindi obiettivi diversi. Io investo di più nel campo turistico, investiremo di più nel campo del commercio, nel campo dei servizi, come non si è fatto prima, però oggi c'è una maggiore fluidità e quindi vedrete nel tempo come tutto andrà al regime e funzionerà meglio. Quindi ancora una volta lancio, come dire, una idea di positività per chi la vorrà raccogliere. Bene, quindi lei ha citato anche il commercio, mi fermo qui perché ne approfitto per invitarla di nuovo, magari nelle prossime settimane, anche per parlare dell'andamento del carnevale e di altri punti, ma anche di quest'altro tasto dolente che molti commercianti commettono in evidenza come si è calato un po' il commercio agropolese. Avremo modo poi di parlarne in una prossima trasmissione, magari noi di Cilento Channel ci faremo un attimo portavoce dei cittadini, andremo a raccogliere proprio dai commercianti di Agropoli quelli che sono le problematiche, che cosa chiedono all'amministrazione economica e così magari il sindaco potrà dare delle risposte. Ti racconto soltanto questo piccolo aneddoto, mi sono trovato presso il comune di Salerno con diversi amministratori locali, diversi sindaci e ci raccontavamo a vicenda, si è aperto l'argomento al capitolo commercio e ci raccontavamo a vicenda cosa dicevano i commercianti di noi. E posso dirvi che è uscito un quadro identico, cioè quello che viene detto a Salerno città, viene detto a Valorio della Lucania, viene detto ad Agropoli, viene detto a Sarno, viene detto... forse una città che ancora regge meglio, forse è cala dei tirreni come tessuto commerciale eccetera, però vi ho detto di comuni in cui le lamentele giuste dei commercianti sono le stesse. Salerno città non è diverso da Agropoli, cioè le lamentele del commerciante del centro cittadino di Salerno non sono diverse da quelle del centro di Agropoli, anche lì si parla di uno spopolamento, anche lì si parla di negozi chiusi, anche lì si parla di movita che non funziona, quindi io credo che il problema sia strutturale. Ora ogni sindaco, ogni amministrazione cerca una ricetta per salvare evidentemente il proprio comune, però il problema è strutturale, quindi il nemico non è tanto il sindaco, l'amministrazione, ovviamente il nemico sono i grandi centri commerciali e il commercio online, insomma dobbiamo reagire in maniera diversa, ma ben vengano da parte dei commercianti proposte, l'unico dubbio che io ho è che fino ad ora non sono arrivate moltissime proposte. Infatti noi ci facciamo portavoce dei commercianti, quindi andremo noi dai negozianti a chiedere ovviamente, viste le tante lamentele che ci sono state nelle ultime settimane, ma continuano anche nei giorni a venire, continueranno sicuramente anche nei giorni a venire, quali sono appunto i punti di incontro che vogliono trovare con l'amministrazione comunale per far ripartire questo commercio in città? E poi ci riserveremo di fare un'altra puntata magari con… Magari chiediamo i commercianti per questo carnevale, noi abbiamo fatto eventi per venerdì, sabato, domenica, martedì. Ricordiamo anche che c'è la corrida, che tra l'altro è anche in diretta su Cilento Ciango, quindi lo sottolineiamo proprio per i telespettatori che sono affezionati a questo evento, lo dobbiamo dire. Noi riempiamo la piazza, ecco si parla della visione della piazza, noi riempiamo anche a febbraio con il carnevale, non per Medovia ma per Medovia, l'azione del carnevale, riempiamo la piazza, perché la riempiamo, no? La piazza Vittorio Vero. Quali le proposte dei commercianti per il carnevale? Quali i loro contributi per il carnevale? Risulta che gli organizzatori del carnevale hanno chiesto anche dei contributi ai commercianti della piazza e risulta che non ne abbiano ricevuto. Allora ecco, quello che io cerco di dire ai commercianti, bene, ma qual è la proposta? Forse perché non hanno trovato negli anni precedenti beneficio da questa manifestazione in termini di commercio, magari le persone giungono ad Agropoli per vedere i carri e non si soffermano a fare il shopping, tutt'al più possono magari beneficiarne i bar, infatti tante attività commerciali sono chiuse a volte. Il nostro compito è portare l'agenda ad Agropoli, poi il compito del commerciante è incuriosire la persona, cioè non penso che mi si chieda anche di dire al turista vai in questo negozio e comprati una maglietta piuttosto che le scarpe, penso che sia compito dell'amministratore portare gente e poi deve essere il commerciante, deve incuriosire nella maniera giusta le persone che arrivano. O no? Io non ho visto mai, non mi pare di aver visto in una notte blu uno scondo particolare, non mi pare rispetto al carnevale aver visto degli scondi particolari né delle idee particolari. Quindi lei ha dato già un input ai commercianti, però in questi giorni andremo nei negozi non solo del centro cittadino ma anche quelli che coinvolgono proprio in prima persona il lungomare San Marco che spesse volte io in prima persona che ho seguito sempre la sfilata dei carri ho visto chiusi, quindi mi piacerebbe capire che cos'è che cercano, quale è il punto di forza, come l'amministrazione può insomma aiutarli e anche l'associazione del carro a questo punto per avere una sinergia completa. Quello che dico, se arriva una proposta, valutiamola insieme e noi cerchiamo di portarla a termine, ma non arrivano proposte, ma perché credo c'è anche un problema di organizzazione dei commercianti tra loro, non c'è un'associazione di categorie, non riescono a fare gioco di squadra, questo è un altro problema tappico che abbiamo nei nostri commerciali, se ci fosse più gioco di squadra io penso che magari si potrebbe indirizzare il commercio in una direzione comune, se noi dobbiamo reagire a 5 centri commerciali nella provincia di Salerno importanti, dobbiamo reagire con politiche alternative, dobbiamo farlo insieme e il centro commerciale ragiona insieme con unicamente e a fare delle politiche rispetto ai negozi interni, alle strutture interni con politiche di sinergia, facciamola anche noi, quando noi parliamo di centro commerciale naturale, significa che dobbiamo cercare di ragionare insieme e fare delle politiche di collaborazione sul commercio che ci portino nella stessa direzione, ma se io non ho l'interlocutore è con chi ne discuto. Va bene, quindi anche questo sarà un altro punto a favore della nostra emittente per poter fare un sondaggio proprio con i diretti interessati. Non ti vogliamo rubare altro tempo Sindaco perché sappiamo che sei super impegnato, sempre al servizio della città e quindi ti ringraziamo per il tuo tempo, il tempo che hai dedicato ai nostri telespettatori per chiarire alcuni concetti che ancora avevano dei dubbi e quindi ti diamo appuntamento ad una prossima puntata sempre qui negli studi di Cilento Channel. Ringraziamo per la pazienza e per l'attesa i nostri telespettatori e dunque ci rivedremo ad una prossima puntata sempre qui su Cilento Channel con Cilento Focus. Ringraziamo per la pazienza e per la pazienza e per la pazienza. Ringraziamo per la pazienza e per la pazienza. Ringraziamo per la pazienza e per la pazienza.